Buonasera Auror Maniaci Arrivo subito, un secondo Ok Vediamo Cosa posso mettere qui in questo Poi qui Mettiamo 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 Questo Che sapore Intorno alle 20 7, 18, 19 Un paio d'ore E poi le riprendiamo più avanti Perché alle 20 Dalle 20 alle 21 Dovrei avere Una cliente oltre che Devo anche cenare Come fanno tutti Gli umani E niente Aspettiamo qua Di iniziare Che carica la partita Metteremo qua un po' di ore E vediamo Intanto Controllo qua Che cosa c'è Da prendere Intanto Mi servono tutti E qua la partita Non parte Ma perché? Intanto Facciamo la conta Non so Parliamo di Della merenda di oggi Non so Vi posso raccontare Una favola Del mentre Per esempio Potrei Nel mio libro qua Che c'ho di fronte Sulle mitologie Potrei parlarvi Dei rat di Envin Delle sirene Della fata borgana Dell'attesa Ah se Andiamo Dai 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 Quanto ci vuole Oh Finalmente Ha trovato Forse una partita Se non Quitano Prima Se non Quitano Prima Sirene Dione Poi abbiamo Tiro che te lo dico E una rana Dai la rana E lo dico E lui si vede Dione Papara Papara Sirene Poi Posso Una persona Dare I personaggi Per i miei Costumi Così me la faccio Bella gotica Se ha qualche bel colore Scuro Visto che Magari aprono Questi negozi Nel gioco Boh Vediamo Adesso che ho giocato A Friday Prima Che non ho trovato Per niente Molto interessante Forse perché lo gioco Da solo E gli altri L'erano tutti insieme E si aiutava Una vicenda Era una pera secca Si è salvato Una Si una volta Su Quattro partite Che ho fatto Benvenuti Se volete unirvi Alla chat Oppure per giocare Scrivete Oppure aggiungetemi Datemi una vostra reazione Facciamo due chiacchiere Magari Quando Mentre sto scappando Dal killer Però Mentre faccio il generatore Posso dare un'occhiata Faccio altre cose Allora Questa dovrebbe essere La strega Io volevo vedere Se c'era un token Qui in giro Perché nessuno mai Fa il cazzo Di totem Secondo me è là La Allora Io mi faccio Un attimo Qui Questi toni pericolo E vorrei andare là Sopra Vediamo che qualcuno Stia facendo It's ok that 2 2 3 2 2 3 2 3 Grazie a tutti 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 Burt e anche non lavoro perché non le volevo fare la pubblicità su facebook ma oggi mio facebook ha deciso che non mi fa pubblicare le cose e quelli li vediamo domani più tardi non so o no a voi come va iscrivetevi se volete seguirmi su facebook oppure qui su twitch prossimamente su youtube se riesco anche lì vediamo se c'è un totem in giro cosa che può servirmi stanotte dovrebbe essere un'altra strighetta dovrebbe essere un tono perché ho sentito la perk non fate i coglioni di quelli che si salvano uno con l'altro fatelo appendere o Qua non ci spediamo Qua non ci spediamo Sbagliato 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 Che cazzo mai sarà? Che palle quando usano questi token E poi quella esigente che si disconnette Non può essere dappertutto, ma qualche l'ho Può essere qui? Non c'è la salita qua Che cazzo è torta Non c'è la salita qua 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 Quella cotta non si sconetteva Non c'è la salita qua E camper Oltre che mettono in rovina camper Non c'è la salita qua 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 Che 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 c'è la salita qua Non c'è la salita qua Non c'è la salita qua Che c'è la salita qua diamoci la solitazza settimana eh certo intanto mettiamoci le cose qui metteremo la busta che magari qualche punto riusciamo a fare allora che bello allora io potrei leggere i miei libri horror nel mentre tipo un'ora di coltura ma faremo una live tutta dedicata alla magia se io prendo qualcosa lì lo attacco qui non c'è qua non c'è vediamo cosa succede sicuramente in tanti saranno in live oggi ovviamente gli altri giocano in compagnia o comunque sono più conosciuti sicuramente io ho iniziato da poco non c'è non c'è non c'è non c'è dormi non c'è non c'è non c'è Grazie a tutti 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 Qualcuno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sicuramente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Stiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Spesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che è questo Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo Grazie a tutti E' un casino Grazie a tutti 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 Beh, questo Grazie a tutti Nebbiamo Grazie a tutti 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 Questo è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti